Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che sono attiva su Facebook, trovate tutti i link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso molto recente. Siamo a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Maria Sestina è la protagonista del caso di oggi, una ragazza sveglia, simpatica, una grande lavoratrice. All'età di 26 anni si sposta da Nocara, in Calabria, a Roma per cercare lavoro come parrucchiera. Nocara è un paesino di 328 abitanti, non ci sono opportunità lavorative per lei. Così decide, a malincuore, di allontanarsi dalla sua famiglia e dai suoi affetti. Maria Sestina arriva a Roma e trova lavoro in un salone di parrucchieri. Roberto Mazzini, il suo datore di lavoro, sostiene che molto spesso l'aveva portata con sé a fare dei corsi di formazione perché aveva notato immediatamente la sua intraprendenza. Poi, ecco che a Roma, Maria Sestina incontra l'amore. Si chiama Andrea Landolfi, ha 30 anni, è un operatore socio-sanitario e da 15 anni è dedito alla box. Anche un bambino di 5 anni ha avuto da una precedente relazione. Inizialmente, le notizie che emergono parlano di un amore incondizionato. Maria Sestina ama follemente Andrea, tanto che a Natale del 2018 lo porta a Nocara, a conoscere la sua famiglia. La famiglia di Sestina, però, quando conosce Andrea, si rende conto che c'è qualcosa che non va. Andrea beve, e tanto. Lo notano durante il pranzo di Natale, ma lui si giustifica dicendo che è in vacanza e che quindi si vuole rilassare. È un ragazzo che attacca briga facilmente, si arrabbia senza motivo, specialmente quando alza un po' troppo il gomito. Insomma, è chiaro che la famiglia di Sestina non è propriamente contenta di Andrea, ma lo accetta per amore della ragazza. Maria Sestina racconta ai suoi genitori come va la sua storia con Andrea e pare sia tutto perfetto. Andrea è dolce e romantico, la va a prendere al negozio al termine del suo turno e le regala dei fiori, l'accompagna a casa. Maria Sestina non è abituata a ricevere tutte queste attenzioni. Durante queste vacanze natalizie, però, deve essere successo qualcosa perché Maria Sestina, che era così appassionata del suo lavoro, comincia ad assentarsi e a chiedere di lavorare di meno. E, proprio quando sta per essere promossa, responsabile di un negozio, si licenzia. La verità è che la ragazza ha semplicemente accontentato Andrea. Inizialmente la coppia doveva stare a Nocara solo due giorni e il 27 dicembre la ragazza sarebbe dovuta tornare a lavorare. Invece rimangono a Nocara per due settimane. Perché? Beh, Andrea la convince a rimandare la partenza perché sostiene di stare benissimo lì, non se ne vuole andare. Suggerisce dunque a Sestina come inventarsi delle scuse con il datore di lavoro. Così, ragazzi, spostano la partenza per il 29 dicembre. Ma, anche il 29, Andrea continua a dire che vuole rimanere a Nocara perché lì sta tanto bene. Quindi la partenza viene di nuovo spostata per il 5 gennaio. Il 5 gennaio, però, Andrea deve per forza tornare a Roma perché il giorno dopo è la Befana e deve passare la giornata con suo figlio. In pratica, Maria Sestina perde il lavoro a cui tiene per un capriccio di Andrea, che lei è a seconda, anche perché lui ha già pensato a un piano B. Sestina dovrebbe lasciare il lavoro e prendere la disoccupazione, cosa che, ahimè, accade. Poi emerge che anche Andrea vive col sussidio di disoccupazione e vuole che Sestina faccia altrettanto. Inizialmente la ragazza chiede al suo titolare di avere un part-time, quindi di ridurre gli orari lavorativi. Ma è chiaro che una responsabile non può fare il part-time. Avviene un ultimo incontro col suo capo che le chiede se ha ancora voglia di emergere, di imparare bene questo lavoro. Maria Sestina gli dice che vuole continuare a lavorare, quindi il suo capo la aspetta al lavoro il giorno dopo. La ragazza, però, non si presenta e gli manda un messaggio in cui dice che ci ha ripensato. E due concludono dunque il rapporto lavorativo. A quanto pare, a questo punto, Maria Sestina tenta di prendere le distanze da Andrea, anche se i due ragazzi continuano a vedersi. Arriviamo alla notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019, quando Sestina e Andrea vanno a passare la notte a casa della nonna di lui, a Ronciglione, in provincia di Viterbo. La mattina del 4 febbraio, Andrea chiama la mamma di Maria Sestina, dicendone che è successo un terribile incidente. I due ragazzi erano sulle scale, si sono sbilanciati e sono caduti entrambi, abbracciati. Andrea durante la telefonata pone l'accento sulle sue condizioni di salute. Dice che si è fatto male al ginocchio, che ha battuto il bacino e si è anche lustato una spalla. E la domanda insistente della madre di Maria Sestina sulle condizioni di quest'ultima? Sestina tergiversa. Fino a quando lei dice che Sestina è in condizioni gravi, devono affrettarsi e raggiungerla in ospedale a Viterbo. A questo punto la madre di Sestina chiede ad Andrea perché abbia aspettato tanto a chiamarla, visto che il ragazzo sostiene che la caduta sia avvenuta alle 2 di notte. Andrea ribatte che inizialmente la ragazza voleva semplicemente andare a dormire, non in ospedale. Ecco perché ha chiamato i soccorsi, solo alle 6 del mattino. La madre di Sestina però non comprende molto bene, insomma, se sua figlia è voluta tornare a letto, allora non stava così male. Com'è possibile che sia finita in ospedale in condizioni gravi? Quando i genitori di Sestina arrivano in rianimazione, Andrea li raggiunge. I carabinieri arrivano poco dopo, Andrea dice loro, vi posso spiegare tutto, è stato un incidente. Loro gli chiedono di seguirle in centrale. Inizialmente la famiglia della giovane ragazza non ha dubbi su Andrea. Non ci pensano neanche che potrebbe essere stato lui ad aver causato la caduta di Maria Sestina. I dubbi però emergono quando i parenti della ragazza parlano con i medici. Le ferite che riporta Maria Sestina a parere dei medici non sono compatibili con una caduta dalle scale. Poi ecco che vedono le condizioni della ragazza e capiscono perfettamente cosa intendono i medici. Maria Sestina è irriconoscibile, ha il volto gonfio, sul collo ha un ematoma, l'occhio sinistro è completamente tumefatto, mentre quello destro presenta un ematoma appena sotto il sopracciglio. Maria Sestina muore all'ospedale Belcolle di Viterbo il 6 febbraio, ovvero mercoledì mattina. Gli inquirenti indagano subito Andrea per omicidio e dispongono l'autopsia. Sabato la Salma torna a casa, domenica si tengono i funerali. Durante la cerimonia vengono liberati dei palloncini bianchi e l'aria si riempie di applausi. La Dio alla ragazza è stato l'abbraccio di una comunità. C'era tutta nocara quella domenica mattina nella parrocchia di San Nicola di Bari a salutarla. Confidiamo nella giustizia, gli inquirenti sapranno trovare la verità. Ha detto all'altare il sindaco Francesco Trebisacce, che aveva indetto il giorno prima una giornata di lutto cittadino. C'è solo una persona che non si è presentata ai funerali, ossia Andrea. Gli organi della ragazza sono stati espiantati per essere donati. Grazie al gesto dei tuoi meravigliosi genitori hai dato la possibilità a chi soffre di continuare a vivere. Ha scritto sui social una cugina della giovane, martire per amore, secondo i familiari. L'inchiesta della procura viterbese è solo all'inizio. L'obiettivo è ricostruire la dinamica della caduta della ragazza dalla scala della casa nella quale alloggiava con il fidanzato e spiegare perché si è arrivata all'ospedale Belcolle di Viterbo con il cranio fracassato. Servirà tempo per capire se Maria Sestina è caduta accidentalmente o se è stata spinta giù. In ogni caso appare assurdo che dopo una caduta del genere, Maria Sestina abbia voluto andare a dormire. Perché non chiamare immediatamente un'ambulanza? Inoltre, come già vi ho detto, Andrea è un OS, quindi un operatore socio-sanitario. Dunque sa bene come muoversi per il primo soccorso. E qui emerge una domanda fondamentale. Perché non ha fatto il suo dovere? Perché non ha prestato soccorso a Maria Sestina? Perché non ha chiamato subito l'ambulanza? Un operatore socio-sanitario si occupa di assistere le persone in difficoltà. Questi operatori, per essere abilitati, seguono un corso, sostengono un esame e fanno un tirocinio. Conoscono le operazioni di primo intervento e sanno che, dopo aver battuto il capo in modo così violento come è stato per Maria Sestina, un impatto che ha provocato delle fratture al cranio e un'emorragia interna, non si deve assolutamente andare a dormire. Perché si può passare rapidamente dal sonno alla morte. Andrea, vi ricordo, chiama il 118 dopo 4 ore. L'ambulanza, infatti, arriva alla casa di Ronciglione dove è successo il fatto. Poco dopo le 6 della mattina, gli infermieri trovano la ragazza già in coma. Perde sangue dalle orecchie e dalla bocca. E soprattutto notano che non ha segni sul corpo. Nessun livido o taglio che spiegherebbe la caduta dalla scala. Quindi vengono informati immediatamente i carabinieri. Inoltre, i medici dicono subito ai familiari che Maria Sestina non ha sofferto perché è passata immediatamente in uno stato di incoscienza. Gli inquirenti, intanto, vanno a controllare la casella giudiziaria di Andrea. Emerge che non ha precedenti, però nei suoi confronti c'è una denuncia di una sua ex fidanzata per maltrattamenti. Andrea, per questo motivo, ha subito un processo dal quale è stato assolto. Ma cosa c'è dietro questa storia? La ragazza afferma che ai tempi in cui erano insieme, Andrea aveva difficoltà a gestire la sua aggressività, rendendosi protagonista di numerose risse. Spesso aveva sbalzi di umore, scoppi d'ira e minacciava di suicidarsi. La tempestava di messaggi fino a non farla dormire di notte. Per questo lei aveva deciso di sostenerlo, sperando che insieme avrebbero superato tutto. La ex fidanzata dichiara che con lei Andrea era controllante e possessivo e a volte, per strada, se qualcuno la guardava, la insultava con frasi del tipo Mi fai schifo? Oppure te lo sei guardato bene il gelataio? No, quindi se uscivano e dei ragazzi guardavano lei, lui le insultava. Non trovo molta logica in tutto questo, ma procediamo. Una volta, racconta la ragazza, in un pub aveva aggredito un ragazzo per futili motivi, sferrandogli un pugno in faccia, facendolo cadere a terra e facendogli saltare un dente. Un'altra volta, nel pub di Ronciglione, lei aveva cantato al karaoke una canzone di Arisa, ossia la notte. Lui era molto ubriaco e usciti dal locale le aveva ordinato di continuare a cantare, mentre prendeva a pugni le serrande dei negozi e infine si era sdraiato per terra in lacrime. Lei era riuscita a convincerla a tornare nella casa dei nonni, dove erano ospiti, ossia Ronciglione. Nei giorni seguenti, lui aveva continuato a mettere quella canzone a ripetizione sul cellulare. Sempre secondo la ragazza, quando era nervoso, Andrea prendeva qualsiasi oggetto trovasse e lo spaccava in terra o contro il muro. E un giorno, mentre lei cercava di fermarlo, lui l'aveva aggredita fisicamente, schiaffeggiandola ripetutamente, tirandole i capelli, strappandole intere ciocche e mordendole il naso fino a ferirla. La ragazza si era recata al pronto soccorso, ma per non mettere in difficoltà il suo fidanzato aveva raccontato di essere caduta. A questo punto Andrea le aveva chiesto scusa e aveva promesso di farsi aiutare, ma poi non aveva proseguito le cure. Ed ecco che la situazione si era ripetuta. Un giorno, ancora ubriaco, l'aveva aggredita con calci e pugni e, infastidito dal suo pianto, l'aveva poi inseguita e l'aveva colpita con forza alla schiena. La ragazza era riuscita a scappare dalla madre, dove era rimasta alcuni giorni, e dove lui l'aveva raggiunta in lacrime, chiedendole di essere perdonato. Sono una merda, ma tu sei la mia vita, gli aveva detto Andrea. La ragazza era tornata con lui, ma la situazione non era cambiata. Percosse, furioseliti, riconciliazioni. La ragazza aveva vissuto in uno stato di terrore finché non si era rifiugiata definitivamente dalla madre. Aveva preso contatto con un centro antiviolenza e aveva spurto denuncia. Nei mesi successivi Andrea non si era arreso e l'aveva supplicata di tornare con lui. Lei aveva deciso di dargli un'ultima possibilità e aveva accolto la richiesta di Andrea di ritirare la denuncia. Questo tipo di procedimento penale, però, non può essere fermato e procede d'ufficio. Dopo tre anni si celebra il processo, mentre nel frattempo i due fidanzati si sono definitivamente lasciati. La sentenza di assoluzione per Andrea arriva proprio nei giorni in cui sta cominciando la storia tra lui e Maria Sestina. E per inciso viene assolto perché la ragazza non si presenta al processo per testimoniare. Intanto, ecco che arriva l'autopsia. La 26enne sarebbe stata lanciata oltre una ringhiera in muratura. Un colpo secco dal parapetto delle scale. Nessuna caduta. Sul corpo è stato individuato un livido molto grande per la frattura alla base del capo. L'ipotesi degli inquirenti è che sia volata nel vuoto per tre metri. È caduta in velocità, lanciata, perché non ci sono segni delle scale sul corpo. Le gocce di sangue trovate sono frutto della perdita di sangue dall'orecchio, non di un colpo sul cammino, come sostiene Andrea. Andrea Landolfi è socialmente pericoloso e non esiste alcuna alternativa alla custodia cautelare in carcere. Questo è ciò che scrivono i giudici del riesame, secondo i quali il ragazzo va arrestato. Andrea sostiene da sempre questa versione dei fatti, raccontando. Io ero sul primo gradino per scendere, stando rivolto verso di lei, che stava sul pianerottolo a bordo scala e lei, in maniera non violenta, mi dava una spinta scherzosa. Poi ci siamo abbracciati e lei nel farlo mi è venuta col peso addosso e io non ho retto al peso. Mentre eravamo abbracciati, sono caduto all'indietro con lei. Siamo ruzzolati giù fino al piano sottostante, battendo più volte sui gradini, battendo testa e corpo. Andrea quindi mantiene la sua versione dei fatti. Lui e Maria Sestina sono ruzzolati giù insieme. Eppure, interaccettato al telefono con un'amica, Andrea dice Quella lanciata, secondo i giudici, è un clamoroso lapsus. L'amica continua Ma una cosa non ho capito, eh. Com'è caduta la tua compagna? Andrea ribatte Siamo prima rotolati, c'era mia nonna testimone. L'amica chiede Ma tu sei intorto? Andrea ribatte Eh, l'amica gli richiede Ma tu sei intorto? Andrea risponde No, sono trentasette giorni che sto a piede di libero. Trentasette! Per i giudici Qui lo stesso Andrea mostra l'incredulità per una libertà insperata Di cui lui tiene meticolosamente il conto. Secondo loro la verità sta proprio in quel lapsus Quel l'ho lanciata che gli sfugge di bocca. Secondo il ragionamento dei giudici È impossibile che i due corpi siano rotolati insieme fino alla base delle scale Per andare a impattare sul camino Perché la scala, peraltro stretta, dopo la prima rampa Forma un angolo di 90 gradi Che avrebbe fermato la discesa Ora vi aggiungo questa informazione semplicemente perché Il mio compagno è un geometra E quindi diciamo che sono anni che lavora in questo campo E appena visto quelle scale in quella casa di Ronciglione Mi ha detto queste parole Quelle scale non sono norma Sono troppo strette E soprattutto il corrimano non c'è per tutte le scale Ma si ferma a un certo punto ed è anche abbastanza basso Detto questo andiamo avanti Però quando Andrea chiama il 118 alle 5.56 Parla invece di una scala a chiocciola Non di una scala con l'angolo a 90 gradi Il primo medico che interviene in soccorso di Maria Sestina Arriva con l'ambulanza alle 6 di mattina Dopo la chiamata al 118 Parla di lesioni compatibili con una caduta rovinosa dalle scale Posteriore e senza difesa Cioè senza quei riflessi automatici di protezione Come per esempio cercare di attutire il colpo con le mani Anche l'autopsia dei medici legali esclude il rotolamento sulle scale E va oltre Esaminate le lesioni di Maria Sestina alla nuca Alla regione sacrale e al torace Ipotizzano una violenta caduta dall'alto Almeno dalla parte superiore delle scale Oltrepassando il muretto che si trova sul fianco destro Della seconda rampa Precipitando nel salone Tutto questo trova riscontro con quanto dichiara a una psicologa Il figlio di Andrea Che ha 5 anni E che dichiara di aver visto senza essere visto Tutto quello che è successo in casa Secondo il racconto del bambino Il padre cerca di abbracciare Maria Sestina Ma la ragazza gli dà una spinta E lo fa rotolare sulla prima rampa delle scale Papà non si è fatto niente Dice Poi vede il padre rialzarsi Prendere la rincorsa Fare un salto E sollevare Maria Sestina dai fianchi E lanciarla di peso Così dicendo il bambino afferra un peluche E lo solleva in alto Prendendolo dalle ascelle Poi continua Lei cadendo ha urlato come Tarzan È arrivata subito in fondo D'altra parte anche i vicini confermano Questa ricostruzione Quando dichiarano di aver sentito Rumore di mobili spostati Sedie che cadevano E le urla di un uomo E di una donna giovani In particolare tutti sentono una voce maschile che dice Zitta Stai zitta Ti ho detto Stronza Piantala Mentre una voce femminile Si lamenta flebile Sono le due e venti di mattina Subito dopo la caduta I giudici evidenziano come l'indagato Invece di preoccuparsi Delle condizioni di salute Della vittima Che aveva appena lanciato La insultasse E la esortasse A rimanere in silenzio Probabilmente preoccupato Di possibili interventi Dall'esterno In aiuto della donna Ma perché Andrea Si sarebbe comportato così? Beh Perché Andrea era molto ubriaco E Quando beve Diventa pericoloso Lo sanno bene i parenti Soprattutto la nonna Che lo ha sempre difeso Pur avendo paura Dei suoi comportamenti Aggressivi E incontrollabili Nel 2008 Era lei stessa A chiedere alla ASL Di occuparsi di Andrea Nervoso E violento Con le persone Nelle cartelle cliniche Andrea viene più volte Definito come Ubriaco E strafatto In particolare Andrea riferisce ai medici Di essere stato Violento Con la fidanzata All'epoca Tirandole i capelli Nel corso di un litigio Esploso A causa del suo aborto Spontaneo La mamma di Andrea Riferisce ai sanitari Che Andrea Ha addirittura Minacciato il nonno Con un coltello Come se non bastasse Sappiamo che Andrea È stato denunciato Per maltrattamenti Anche Da un'altra donna Da conversazioni Telefoniche Ambientali Intercettate La nonna E la mamma Di Andrea Dichiarano di Aver loro stesse Paura del ragazzo La nonna Tene che Potrebbe buttarla Di sotto Ma nonostante questo Secondo i giudici Del riesame La nonna Per salvare Il nipote Mente Su tutti i fronti Sull'orario Di rientro A casa Della coppia Dichiarando Che sono tornati Alle 10 e 30 Ma anche Sul motivo Per cui Lei Esce improvvisamente Di casa Nel cuore Della notte La verità È che Andrea Le aveva sferrato Un pugno Che le aveva Causato La frattura Di tre costole Lo riferisce La mamma Di Andrea In un'intercettazione Telefonica La nonna Dirà poi Che le costole Se le era fratturate Qualche giorno Prima cadendo E Andrea Colpendola Sottolinea La donna Non troppo forte Ha riacceso Il dolore Costringendola Ad andare in ospedale Quella stessa notte Poco dopo E la caduta Ma soprattutto L'anziana donna Mente Quando racconta Di aver visto I due ragazzi Cadere insieme Dalle scale Ancora una volta Da una intercettazione Ambientale Emerge Un'altra storia La nonna Parlando in procura Con la mamma Di Andrea Dice Certo Quando l'ha buttata giù La nonna di nuovo Sostiene che Tra Andrea E Maria Sestina C'era un clima sereno Ebbene Non è così Non è vero In realtà I due hanno litigato Tutta la sera E in molti hanno notato Gli atteggiamenti Violenti E sopra le righe Di Andrea I camerieri Del ristorante Dove avevano cenato Descrivono Una situazione Di tensione Andrea aveva bevuto Una bottiglia Di vino rosso Due grappe E alcolici vari Poi la coppia Si era spostata Al pub Il castello Dove Andrea Aveva continuato a bere Mentre Maria Sestina Era stata vista Piangere in silenzio E subire atteggiamenti Aggressivi Da parte dell'uomo Le afferrava il viso Per girarlo verso di lui Era certamente In stato di alterazione Da alcol Dichiara la moglie Del gestore Ma c'è di più Maria Sestina Era uscita dal pub Per fumare E si era confidata Con un ragazzo Che poi a verbale Dichiarerà Maria Sestina Mi diceva Che era intenzionata A lasciare il ragazzo Perché non lo amava più Poiché lo aveva Rinfacciato Nel pomeriggio Alcune cose del passato Lei stava quasi lacrime Mi diceva Non sto piangendo A te ti sorrido Stava con il cellulare Tra le mani E cercava un albergo Per andare a dormire E poi sarebbe andata In Calabria Dai genitori Poi è uscito fuori Il compagno Andrea Landolfi E Maria Sestina Gli diceva Che stava trovando Una camera Per andare a dormire Ma Andrea Le diceva Che doveva andare a dormire Con lui Nella casa di Ronciglione Poi rinvolgendosi A me Diceva Salutala per l'ultima volta Tanto non la vedi più I giudici concludono Che Maria Sestina Era profondamente infelice Che Andrea Landolfi Aveva degli Atteggiamenti Scomposti E violenti La condotta Violenta di Andrea Era saltata Dall'alcol E aggravata Da futili motivi Si comportava In questo modo Con Sestina Perché rifiutava Di essere lasciato Per il riesame Andrea va arrestato Anche perché Potrebbe reiterare Il reato Perfino la nonna E la madre Hanno manifestato Apertamente Il timore Di una reazione Violenta contro di loro Proprio loro Che conoscono da anni La situazione patologica Di Andrea Ma che Piuttosto che Imporgli di curarsi Hanno sempre cercato Di tutelarlo Anche oggi Dicono I giudici La nonna È disposta a mentire A chiunque Per proteggere il nipote Dunque Secondo la giuria Del riesame Anche per l'atteggiamento Dei familiari Che hanno fatto Corpo In sua difesa Rafforzando Il suo sentimento Di impunità Si rende necessaria Per Andrea Landolfi La misura Del carcere A questo punto Si scopre che Andrea è cresciuto Con i nonni Soprattutto la nonna Mirella È sempre stata Una presenza Costante Nella sua vita La nonna È pronta Ad aiutare il nipote Proteggendolo A dispetto Di ogni evidenza Disposta a mentire A chiunque Per questo Tanto che Il PM L'ha indagata Per false dichiarazioni Al pubblico ministero Omissione di soccorso E abbandono Di incapace La nonna Racconta Che nella notte Tra il 3 e il 4 febbraio La coppia È entrata a casa All'1.40 Avevano bevuto Ma non erano ubriachi Lo sa Perché lei Ha parlato Sia con Andrea Che con Maria Sestina Mirella Racconta Che Andrea È salito Al piano di sopra Per mettere Il pigiama A suo figlio Perché aveva sonno Lei È rimasta Al piano di sotto Seduta sul divano E si è messa A parlare Con Maria Sestina Quest'ultima Dice a Mirella Tuo nipote Ha fatto il solito Mirella Ribatte Che ha fatto Il provolone Sestina Secondo la nonna I due ragazzi Avevano litigato Perché Andrea Aveva iniziato A guardare Una cameriera Del pub E la ragazza Si era ingelosita Ma era un piccolo Ritigio Roba da poco conto Eppure Risulta che i due ragazzi Avevano iniziato A litigare Già nel pomeriggio E Andrea Se ne era andato Lasciando Sestina A casa Tra le 15.19 E le 18.31 Maria Sestina Chiama Andrea Per ben 45 volte Senza ricevere risposta Quando il ragazzo Rientra Decide di portare Fuori a cena Lei e suo figlio La nonna Inoltre Si fa sfuggire Che non ha ritenuto Necessario Chiamare l'ambulanza Prima di tutto Perché secondo La sua versione Maria Sestina Dopo la caduta Sulle scale Si è alzata Con le sue gambe Ed è salita Al piano di sopra Con Andrea Ma soprattutto Perché Mirella Temeva Che potessero Togliere Il bambino A sua nipote Eccola la risposta Eccola la motivazione A questo punto La domanda Nasce spontanea È davvero Per timore Che levassero Il bambino Ad Andrea Che i soccorsi Vengono chiamati Con così tanto ritardo Per me Questa è l'unica Opzione Poi mi direte Se anche per voi È così Quando quella notte La nonna Si mette in cammino Per andare in ospedale Come ha detto Si scatena Tra i parenti Una tempesta Di telefonate Diciamo così Secondo i tavolati Oltre 100 contatti Tra la madre Le figlie Il genero Che accompagna Mirella In ospedale E Andrea Che chiama La nonna Usando il telefono Di Maria Sestina Quella notte Tutti chiamano tutti Ma da quello Che dicono Tra loro Non parlano mai Di quello Che è successo A Maria Sestina Sono solo Preoccupati Per la salute Della nonna Ad un certo punto Verso le 4 del mattino Andrea si mette In contatto Con una zia Di nome Monica Gli dice Che Maria Sestina Sta vomitando La zia Dice ad Andrea Di portarla All'ospedale Ma Secondo la versione Della nonna Il nipote Ha perso tempo Perché Maria Sestina Correva da una stanza All'altra Togliendosi Le scarpe O i vestiti Perché non voleva uscire Io me l'immagino Questa ragazza Con il cranio fracassato Che si mette a correre Per la casa Togliendosi le scarpe I vestiti Perché vuole continuare A dormire Ve le immagino Proprio bene Certo Andiamo avanti Per carità E infatti Io mi chiedo Come sia possibile Sostenere che Si sia verificata Una situazione Del genere Quando quella Povera ragazza Ripeto Aveva la testa Fracassata Ed è morta Per una emorragia Cerebrale Come può aver corso In questa situazione E comunque Anche se fosse Deve aver corso parecchio Perché l'ambulanza Viene chiamata Poco prima Delle 6 del mattino Per circa due ore Maria Sestina Corre Si spoglia Non vuole prepararsi Ma come diamine Ha fatto D'altronde La casa a Ronciglione Chiariamo Non è un castello Composto da 100 stanze È una casa normale Su due piani Ma soprattutto I medici Per primi Sostengono Che la ragazza Dopo la caduta Ha perso Immediatamente Coscienza E mi risulta Difficile Pensare A una ragazza Priva di coscienza Che corre Da una stanza All'altra Ma ora Analizziamo La chiamata Che Andrea Fa il 118 Perché è molto Importante Questa chiamata Quando avvengono Queste telefonate Ci sono delle aspettative Ci si aspetta Che il chiamante Si è alterato Insistente Che soprattutto Chieda aiuto Per la vittima Ci si aspetta Che impreghi Che dica parolacce Che non attenda La fine della domanda Dell'operatore Per esplicitare Una richiesta Di aiuto Non ci si aspetta Invece Che il chiamante Si perde Insuperflui Convenevoli O che chieda aiuto Per sé O che senta Il bisogno Di collocarsi Dalla parte Di coloro Che vogliono Il bene Per il soggetto Per il quale Chiama Le autocensure Indicano Che chi parla Nasconde informazioni Lunghi tempi Di latenza Prima di rispondere E pause Indicano invece Che un soggetto Ha bisogno Di pensare Prima di parlare Generalmente Per non dare risposte Incriminanti Passiamo quindi Alla telefonata L'operatore risponde Alla chiamata E Andrea dice Si salve Io sto qua A Ronciglione Andrea Landolfi Non esordisce Con una richiesta D'aiuto Ma con un Si E un salve Due parole Inaspettate In una chiamata Di soccorso Si È una pausa Per pensare Io sto qua A Ronciglione Non è una richiesta Di aiuto L'operatore quindi Ribatte Si Andrea risponde So a via Papirio Serangeli La mia compagna È cascata dalle scale Stavamo sulle scale A chiocciola Ha perso i sensi Io non Non so più che dire Nel senso Ha rigettato Ci si aspettava Che Andrea Landolfi Dicesse La mia compagna È cascata Dalle scale Ha bisogno di aiuto La descrizione Dei fatti È troppo lunga E manca di nuovo Una richiesta di aiuto Inoltre Andrea Riferisce Che è La sola Maria Sestina A essere caduta L'operatore Chiede la via Andrea La ripete Aggiungendo Ho provato a portarla Ma non Andrea Non ha ancora Chiesto aiuto Per Maria Sestina L'operatore Chiede il numero civico Andrea risponde Che il numero civico Non c'è E non sa come aiutarlo Se non Andandogli incontro Perché lui Di solito Sta a Roma Nella casa A Ronciglione Ci vanno I weekend Per riposarsi Dunque Alla fine Andrea Dice È l'unica Che esiste In via Papirio Serangeli A Ronciglione È stata davanti I monaci Davanti al Al coso L'operatore Aggiunge Al convento Andrea Conclude Esatto È un cancello Che poi Si scende giù È stretto Si scende giù L'operatore A questo punto Si arrende E gli dice Beh sinceramente Glieli passo Quando stanno lì Il suo cognome Qual è Andrea Ribate È Landolfi Il mio cognome È Landolfi A questo punto Finalmente arrivano Le domande Su Maria Sestina L'operatore Chiede ad Andrea Quanti anni Ha la sua ragazza Lui risponde Che ne ha 26 L'operatore Gli chiede Se si sia ripresa E Andrea Risponde Con queste parole No ripresa Nel senso Che non Parla Ma dice Cose così Non Non lo so È cascata Io per attutirla Ho sbattuto il bacino Sto con mio figlio Ma io ho sbattuto Sulla testa Dietro vicino al camino Lei ha Perso il sangue Dal naso E da orecchie Io sto preoccupato Perché qua Qua non mi risponde Lei Io che debbo fa Vi metto in evidenza Che di nuovo Andrea dice È cascata Al singolare Non siamo cascati Andrea Landolfi Si dice preoccupato Ma non ha chiesto Aiuto per Maria Sestina Perde tempo Invece A parlare di sé E a spiegare La dinamica Dei fatti È cascata Io per attutirla Ho sbattuto il bacino Sto con mio figlio Ma io ho sbattuto La testa dietro Vicino al camino Sono tutte Affermazioni Superflue Dalla prima All'ultima Inoltre È la seconda volta Che Andrea ripete Che Maria Sestina È cascata Evidentemente Vuole essere certo Che l'operatore Immagazzini L'informazione L'operatore A questo punto Risponde niente Adesso ti mando Un'ambulanza Ed è a questo punto Che Andrea Dice Aiutatemi Ve prego L'operatore Lo rassicura Di nuovo Dicendogli Sì 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 Un attimo Io ti mando L'ambulanza Andrea Ribatte Eh facciamo qualcosa Ve prego Non lo so Non mi risponde Mi dice i numeri L'operatore Ovviamente Ripete Più di così Non possiamo fare Ascolta un attimo Calmati Andrea ripete Mi dice i numeri Mi dice Mi dice i numeri Mi dice Ora Io voglio Fare una domanda A tutti i romani Che guarderanno Questo video Mi dice i numeri Che cosa vuol dire Che straparlava Che diceva cose senza senso Oppure che proprio non parlava Non capisco Non capisco Anche perché A quanto pare Maria Sestina Dopo la caduta Ha perso i sensi Figuratevi alle sei del mattino Ma procediamo L'operatore a questo punto chiede Allora è caduta Da che altezza è caduta? Andrea ribatte È da scalacchiocciola È È ancora una pausa per pensare A questo punto Ci si aspetta che Dopo averci pensato Andrea Fornisca un dato numerico Invece non risponde Alla domanda Ma cita La scalacchiocciola Fornendo Un'informazione Non richiesta E apparentemente inutile Ma evidentemente Per lui Importante Le parole di Andrea Inducono a chiedersi Il perché Senta il desiderio Di assicurarsi Che l'operatore Abbia capito Che sta parlando Di una fantomatica Scalacchiocciola L'operatore a questo punto Chiede La scalacchiocciola L'ha fatta tutta? Andrea ribatte Tutta l'abbiamo fatta Perché se è sbilanciata Stavamo parlando Io stavo sulle punte qua Allora stavamo giocando Scherzando Io mi sono sbilanciato Lei si è retta su di me E io per attutirla Però purtroppo Lei la La botta L'ha presa E io la botta L'ho presa più forte Però non lo so Evidentemente Lei ha preso Evidentemente Non so Se l'ha presa dietro la schiena E vicino all'orecchio Però Poi Da là Ma L'ho portata a ca Cioè Su Ha rigettato Quello che ha mangiato Tutta l'abbiamo fatta È il frutto Di una contaminazione È stato in effetti L'operatore A introdurre certi termini Attraverso la domanda L'ha fatta tutta? Andrea Invece di rispondere Sì Si esibisce In una lunga tirata oratoria Durante la quale Si lascia scappare Un Da là Ma L'ho portata a ca Quando il ragazzo pronuncia queste due frasi Si è autocensurato due volte E ha poi aggiustato il tiro Aggiungendo un generico Su Ossia Alla fine L'ho portata su Ha rigettato Ma cosa stava per dire dunque Andrea? L'ho portata a casa forse? L'operatore chiede Quindi Ha anche vomitato dopo che è caduta? Andrea ribatte Ha rigettato tutto quello che ha mangiato Tutto Però Non ha rigettato sangue Ha rigettato solo quello che ha mangiato L'operatore si limita a dire Alimenti Ok? Andrea continua Ok Lo curate tutto quanto Gli ho Ci ho pensato tutto quanto Gli ho dato il biochetasi Glielo fa Gli ho dato l'acqua fredda E tutto quanto Niente Mi continua a di Non me Non me Mi dice i numeri Mi dice cose Non lo so Mi dice i numeri L'operatore ribatte Va bene Guardi Facciamo così Lasci libero il numero Capito? Andrea continua Chiamatemi Ve prego Perché io Non lo so So preoccupato Io qua non so che fa Mannaggia L'operatore ribatte Tranquillo Mandiamo qualcuno Dai Andrea di nuovo ripete Aiutatemi Ve prego L'operatore continua Mandiamo qualcuno Dai Andrea chiude la chiamata Rispondendo Eh Grazie Ascoltando la telefonata Tra l'altro Sembra che l'evento Si è accaduto Si è accaduto Si è accaduto Da poco Ma Come già vi ho sottolineato Sono passate Quattro ore Dalla caduta Da qui L'omissione di soccorso Al processo Per la difesa È stato un tragico incidente Per l'accusa Maria Sestina È stata lanciata Nel vuoto Dall'alto delle scale Da Andrea Dunque Per stabilire Dove sta la verità In aula Si è iniziato Con l'ascolto Dei testimoni Che hanno incontrato La coppia Quella notte Alle ventuno Maria Sestina Andrea e suo figlio Vanno a cena Al ristorante Il Divino I tre vengono ripresi Dalle telecamere interne Al locale Il cameriere Ascoltato in aula Agli inquirenti Di Andrea Aveva dichiarato L'impressione che mi ha dato È che fosse molto agitato Infatti Sgridava il figlioletto Per ogni piccolo problema Si alzava in continuazione Ha fatto anche cadere La sedia In un paio di occasioni La ragazza invece Stava sempre abbastanza zitta Addirittura A un certo punto Si è alzato Per andare al pian terreno A pagare Si è dimenticato Il bancomat Alla cassa Io non sto dicendo Che accada a tutti Perché effettivamente Mi sono confrontata Con un po' di persone E mi hanno detto No ma non è mai successo Siglia Sei tu che sei una scima Ed è vero Però a me è capitato Ed ero sanissima Sanissima Di dimenticarmi proprio Il bancomat Quando ho prelevato Cioè Il cosino Si è rimangiato Il mio bancomat Io sono dovuta andare Direttamente In sede In banca A chiedere Se potevano tirarmelo fuori Insomma Ridarmelo E Può capitare Può capitare Non è a mio avviso Questo che indica Che Andrea Era ubriaco Andiamo avanti Andrea più che altro È sopra le righe Straparla Racconta Al cameriere Tra l'altro Sconosciuto Cose non vere Cioè Dice di essere stato In carcere Di aver perso tutto Mi è rimasto solo Mio figlio Sto cercando di rifarmi Una vita con questa ragazza Ma Non lo so Dopo il ristorante La coppia con il bimbo Continua la serata Al pub Il castello Dove la proprietaria Convocata in aula Se lo ricorda Perché Lui Una volta Da ubriaco Aveva raccontato Che aveva perso La moglie E un figlio In un incidente Anche qui Pure invenzioni Di fantasia Riguardo a quella sera La donna Aveva dichiarato Che Andrea Era in uno stato Da alterazione Da alcol I due dovevano Aver discusso Lei piangeva E lui le toccava Il braccio Come per obbligarla Ad ascoltarlo Oppure le afferrava Il viso Per girarlo Verso di lui Sestina esce Dallocarle a fumare E si intrattiene A parlare Con un frequentatore Del pub Testimonianza Molto importante E attesa in aula Dove però All'ultimo momento Gli avvocati Della difesa Hanno chiesto E ottenuto Di acquisire Quello che Il ragazzo Aveva già Messo a verbale Vi ho già letto Questa testimonianza E tutto quello Che ha detto Questo ragazzo È risultato vero Dall'analisi Del cellulare Di Maria Sestina A quell'ora Risulta la ricerca Fatta dalla ragazza In un bed and breakfast A Ronciglione A lune 45 Andrea e Maria Sestina Tornano a casa Il vicino che abita Al piano sottostante Dichiera di essere tornato Alle 2.20 Con la moglie E di aver sentito subito Una discussione animata In corso Al piano di sopra Si sentivano mobili Spostarsi Sedie che cadevano Strilli di un uomo E di una donna La voce femminile Era flebile Giovanile Si lamentava Mentre l'uomo Inveiva contro di lei Con frasi tipo Stronza Piantala A questo punto Emergono degli audio Che Sestina Aveva mandato Ad Andrea Che dimostrano Una vita Che è un inferno Questi audio Sono davvero terribili E a mio avviso Fanno molto a riflettere Il primo audio È questo A mente lucida Io adesso ti dico Basta Cioè C'è un limite a tutto È stata l'ennesima E onestamente io Una vita così Così Non la voglio Mi vengo a prendere Le mie cose stasera Io per la mia strada Tu per la tua Perché tu una ragazza come me Non la meriti Ok? Non la meriti proprio Arriviamo al secondo audio All'inizio Sì me la vivevo bene Stavo bene Ma quei tre giorni Mi hanno ucciso Veramente E non è che mollo subito Alla prima Se dovevo mollare Alla prima Già non c'ero più Lo sai benissimo Stavo cercando Comunque sia Di recuperare qualcosa Però Vedo Molte volte Che tu È come se Certe volte È come se Te ne fregasse Tantissimo di me E certe volte È come se Non te ne fotesse Un cazzo Cioè Capisci È un'altalena Io non so Che dirti Andrea C'ho paura di C'ho paura C'ho paura di tutto Siamo solo Il 27 novembre 2018 I due ragazzi Sono andati da poco A vivere insieme Ma Maria Sestina Ha già ben presenti I problemi di Andrea Il fatto che Quando beve Diventa ingessibile E fa paura Il 15 dicembre Maria Sestina Gli manda Un altro audio La cosa più brutta Davvero È che io Stavolta Ci credevo Veramente Andrea Te lo giuro Su Cristo Stavolta Ci credevo Veramente Ho detto Ma capito Possiamo costruire qualcosa Ma guarda Dopo ieri sera Dopo quel momento Di schizofrenia forte Che hai avuto Che non ti riconoscevo Andrea Non ti riconoscevo Cioè Non mi hai fatto niente Che una passante E lo sai E lo sai Ma onestamente Non Riflettendo adesso A mente lucida Ti dico Basta C'è un limite a tutto È stata l'ennesima E onestamente Io una vita così Non la voglio Sei tu che allontani tutti Sei tu che vuoi rimanere da solo Perché è quello che ti meriti Fondamentalmente Prendermi in giro in quel modo Ieri sera Davanti ai miei occhi Io ho fatto finta di niente Ma lo sapevo già Avevo capito tutto Andrea Non mi metti nel taschino Questi audio rappresentano La fotografia impietosa Di quello che sta succedendo Andrea L'aggredisce per strada La spinge platealmente Tanto che Una passante Interviene in difesa Della ragazza Andrea Attacca briga con tutti E Sestina Si vergogna Si sente umiliata Passiamo a un altro audio Probabilmente è il seguito Di quello precedente Perché Maria Sestina dice Sei tu Che Allontani tutti Sei tu che vuoi rimanere da solo Perché è quello che ti meriti Fondamentalmente Prendermi in giro in quel modo Ieri sera Davanti ai miei occhi Io ho fatto finta di niente Ma io sapevo già tutto Avevo capito tutto Andrea Non mi metti nel taschino Ancora una volta Andrea ha bevuto Ecco perché Maria Sestina dice Io ho fatto finta di niente Ma avevo già capito tutto Maria Sestina si sente presa in giro È delusa E cerca di troncare Questo rapporto L'audio continua così Se tu hai voglia di fare Determinate cose Falle Ma non con me Hai voglia di bere Bevi Ma non lo fare con me Tu Io e te da oggi Anzi Già da stamattina Ti darò tutti i soldi che vuoi Per gli occhiali Tutto quello che vuoi Ti do tutti i soldi che vuoi Ok Mi vengo a prendere le mie cose stasera Io per la mia strada Tu per la tua Perché tu una ragazza come me Non la meriti Ok Non la meriti proprio Ebbene Maria Sestina ci prova a lasciarlo Ma non ci riesce I due restano insieme E vanno a passare Le feste di Natale In Calabria Dalla famiglia Della ragazza Quindi quando vanno in Calabria Sono già belli in crisi Anche lì Andrea Taccabriga questa volta Con gli amici di sempre Di Maria Sestina E attenzione Lei si arrabbia talmente tanto Che lo manda a dormire In albergo Il 29 dicembre Sestina scrive La mamma di Andrea Mia mamma ha capito tutto A tavola Lui da solo Ha bevuto un litro di vino La madre di Andrea risponde Maledetto bere Finite le feste I due tornano a Roma Ma il 2 febbraio Dopo l'ennesimo litigio Alle 3.50 di notte Sestina invia un altro messaggio audio Ad Andrea Che è fuori casa Ubriaco Maria Sestina dice Io ho cambiato la mia vita per te L'ho cambiata in modo radicale Ho conosciuto tuo figlio La tua famiglia Tutto Mi sono messa a fare la mamma Cosa che io non ho mai fatto Sono arrivato a un punto Che ho detto Ma che cazzo sto facendo Cioè Gesù Cristo Mi ha donato una vita Ti ho dato Ti ho fortificato Ti sto dando il cuore L'anima Tutto quello che vuoi Te lo sto dando anche io Solo che tu Non lo vedi Tu non vedi niente Perché tu ti focalizzi Su te stesso Io stasera avevo fatto Un discorso Stasera Credo in te Andrea Lo so Che cosa hai fatto Hai continuato a bere Io non ce la faccio più Con te Andrea Mi dispiace Io ci sto provando In mille modi Le ho studiate tutte Ma se tu mi rendi inutile Ora vuol dire che Non sono io La persona giusta E che il percorso Che devi fare Per il vero cambiamento Lo devi fare da solo Il problema non sono io Andrea Il problema sei tu È quello che ti devi mettere in testa Non sono gli altri il problema Sei tu Sei tu che ti crei certe cose Certe situazioni Sei tu Non è perché tu ti nervosisci con me Devi trovare il pertesto per bere Perché ti va di bere Andrea che dobbiamo fare? No domani cascasse il mondo così cos'ha? Sono le quattro E tu stai ancora in giro Io domani non lo so che cosa faccio Non lo so Lo ripeto C'ho una vita E viverla così con una persona Che gli devo stare dietro per dietro E poi dopo Che non mi caga di striscio Onestamente non ha senso Capisci? Non ha proprio senso Il giorno dopo è sabato I due vanno a Ronciglione A casa della nonna di Andrea Domenica 3 febbraio Andrea e Sestina Litigano ancora Continuano fino a tarda sera Lei ancora una volta Decide di lasciarlo Non vuole tornare a casa con lui Ma poi i due rientrano insieme Sestina da quella casa Uscirà alle 6 del mattino Dopo In barella Ormai priva di coscienza Questo caso Devo dirvelo Mi tocca nel profondo Perché purtroppo Non posso fare a meno Di pensare al povero Marco Vannini Anche lui Esattamente come Maria Sestina È morto solo perché Non sono stati chiamati I soccorsi in tempo E questa cosa Mi fa incazzare Come una iena E soprattutto Mi fanno male questi casi Mi dà così tanta angoscia Pensare che Quella bella e dolce ragazza Avrebbe potuto davvero salvarsi Se fossero stati chiamati I soccorsi in tempo Andrea è accusato Di omicidio E omissione di soccorso A questo punto Concentriamoci Sul processo Ormai la versione di Andrea La conosciamo La conosciamo tutti Durante il processo Si avvale della facoltà Di non rispondere Ma A pochi giorni Dalla fine Decide di rilasciare Una dichiarazione Spontanea Cambiando la versione Dei fatti Questa volta Più vicina Alla ricostruzione Del volo Lei mi dà una spinta E mi fa ridendo Ma vaffanculo Io faccio tre gradini Di punta all'indietro E vedo Sestina Che mi rincorre A un certo punto Prendo Cerco di aggrapparmi In qualsiasi modo possibile Ma non c'era modo Mi è venuto un istinto Penso di sopravvivenza Istinto umano Qualsiasi cosa Che si possa agganciare Qualsiasi cosa Che si riesce a prendere E lei Aveva allungato le braccia Aveva fatto anche lei Quei quattro gradini Per prendermi il bavero Della felpa Io mi sono aggrappato Al braccio suo Ho visto Sestina Come se mi venisse Sopra di me Poi ho messo le mani Così Ho chiuso gli occhi Ho sentito un botto E io ho sentito Un altro botto Poi ho sentito I botti miei Che facevo le scale Mi ero rannicchiato E poi arrivo Con lo spigolo Fino al cammino Dove arrivo a sbattere La parte posteriore Sestina invece La trovo lateralmente Con il lato opposto Di lato verso le scale Dove guardava la parte esterna La camera da pranzo Il processo però Si conclude in primo grado Con una soluzione Andrea Non ha scagliato Giù dalle scale Sestina Per i giudici Che hanno assolto Andrea Landolfi Le lesioni della ragazza Sono compatibili In astratto Con una caduta dall'alto Ma Anche da un rotolamento Per le scale Sestina Secondo la sentenza Avrebbe risposto stizzita Ad una provocazione Scherzosa Del fidanzato Si sarebbe avvicinata A lui Toccandolo Facendogli perdere L'equilibrio E provocando Di conseguenza La caduta Di tutti e due Nelle motivazioni Della sentenza Di primo grado Si legge che Non ci sono prove Che Andrea Abbia lanciato Sestina Dal parapetto Delle scale Anzi Sembra emergere Che si sia trattato Di un tragico incidente Che ha visto Entrambi i giovani Cadere rovinosamente Dalle scale Con conseguenze Rivelatesi Fatali Per uno di loro Quindi L'imputato Deve essere assolto Dal reato Di omicidio Perché Il fatto Non sussiste Viene anche assolto Per l'omissione Di soccorso Ma Come sappiamo La nonna di Andrea Mirella Ha ricevuto Un pugno O un marrovescio Dal nipote Quindi è dovuto Andare In ospedale Andrea Viene condannato Per questo capo Di accusa A quattro anni Di detenzione Una pena maggiore Di quella prevista C'è una domanda Che mi sorge spontanea Perché viene condannato Per il mancato Soccorso Alla nonna E non per quello Di Maria Sestina Che stava morendo Ma ecco che arriva Il colpo di scena I giudici di secondo grado Ribaltano a sorpresa La sentenza Di assoluzione Emessa dal Tribunale Di Viterbo Sono tornati in aula Gli stessi protagonisti Non c'è stata Alcuna nuova perizia Sulla dinamica O sulla scena Del delitto Ma il verdetto È opposto Nel tardo pomeriggio Di mercoledì 21 dicembre 2022 Infatti È arrivata la sentenza Andrea Landolfi È colpevole Di omicidio La morte di Maria Sestina È stata voluta E causata Dal fidanzato Andrea Landolfi È stato lui A lanciarla giù Per le scale Della casa Della nonna A ronciglione Provocando le ferite mortali Dovrà scontare 22 anni di reclusione C'è delusione Afferma il suo avvocato Non ce l'aspettavamo Non è stato Aggiunto Alcun nuovo elemento Sapete È una storia Che si ripete Diversi occhi Sullo stesso fatto Danno una valutazione Diversa Di certo Questa sentenza È inaspettata Detto questo Io ho finito di parlare In questo video Spero ovviamente Che questo video Possa essere stato Interessante Per voi Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo caso Se lo conoscevate Se lo conoscevate Così nello specifico Insomma Come al solito Ci becchiamo Qui sotto Nei commenti Io nel frattempo Vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo Al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi Continuate a mangiare Le verdure Le verdure Che continuano A far bene Ma soprattutto Prendetevi cura Di voi E fate ciò Che vi rende felici Basta che non facciate Nulla di criminale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti